Hai un iPhone? Sapemi che alcune app generano spazio inutile in memoria con il passare del tempo? Ad esempio, se usi spesso TikTok, quest'app immagazzinerà della memoria cache, ovvero immagini, testo e dati di ciò che visualizziamo sull'intera applicazione, in modo da caricarla più rapidamente al suo avvio e non solo. Quindi, durante l'arco delle settimane o dei mesi, TikTok comincerà ad accumulare sempre più spazio, arrivando a pesare anche diversi giga. Questo, ragazzi, accade con tantissime applicazioni, soprattutto i social che ovviamente usiamo quotidianamente, accumulano tantissima memoria cache. Ma come si elimina questo spazio in memoria accumulato inutilmente? Beh, semplicemente reinstallando le applicazioni. Vi basterà rimuovere la singola applicazione, riandare su App Store, reinstallarla, inserire i vostri dati, la vostra mail, la vostra password e ritrovare i vostri social come li avevate lasciati.